Lo stato di salute di Ponte Buriano monitorato in tempo reale da Argo, l'innovativo sistema impiegato in oltre 4.000 ponti, viadotti e cavalcavia della rete Autostrade per l'Italia. Il Ponte Romanico sarà così un vero e proprio sorvegliato speciale in attesa della realizzazione della viabilità alternativa di collegamento tra Arezzo e Valdarno Superiore con un nuovo ponte sull'Arno. Il futuro di Ponte Buriano è già in parte scritto perché a breve la Commissione sceglierà il progetto per il nuovo ponte, l'opera provvisoria sta andando avanti, abbiamo delle difficoltà legate all'autorizzazione degli enti superiori rispetto alla progettazione, stiamo però insistendo per far comprendere l'esigenza di intervenire il prima possibile perché sappiamo che il ponte ha problemi di sicurezza, quindi è importante togliere il traffico il prima possibile. Stiamo lavorando per cercare di riottenere quegli 11 milioni di finanziamento che il precedente ministro della coesione ci ha tolto senza motivazioni perché sappiamo che quest'opera deve tornare ad essere un'opera d'arte, deve smettere di essere l'unico mezzo di collegamento di un'area bellissima ma dove appunto un'opera famosa in tutto il mondo non può essere messa a rischio dal passaggio dei mezzi pesanti. Grazie Grazie Grazie